90 dipinti per raccontare 100 anni di arte e una famiglia Icascella. Prosegue al Museo Vittoria Colonna di Pescara il ciclo dedicato alla grande pittura otto-novecentesca abruzzese. Inaugurata oggi la mostra dal titolo Icascella, Basilio, Tommaso, Michele, Gioacchino, un secolo di pittura dal verismo al post-impressionismo, tutta da ammirare fino al prossimo 17 novembre. Noi coprendo un arco di tempo di 100 anni andiamo dal verismo puro di Basilio al post-impressionismo di Michele. Attraverso la pittura pura di Tommaso è una famiglia di artisti che può essere paragonata ai guardi, per esempio ai Carracci del 600, ai Tintoretto, ai Tiziano, che sono state grandi famiglie di artisti. Noi nel novecento abbiamo la famiglia Cascella di Pescara e Ortona, diciamo, che onora la storia dell'arte italiana.